Marcus Heiderberg trionfa nella terza tappa in linea del Tour of Slovakia 2016. Il portacolori della Felbemeyer Simplan Wells si è infatti imposto sul traguardo di Zuberek, anticipando tutto il gruppo. Alle spalle dell'austriaco arriva il gruppo regolato allo sprint da Jan Trachtnik, con il podio di giornata completato da Frantisek Sir. Quarto posto per Filippo Fortin, del GM Europa Ovini, migliore degli italiani sul traguardo, con Matteo Rabottini, che ottiene l'ottava posizione. Non cambia comunque la classifica generale con Mauro Finetto, che rimane al comando quando mancano due frazioni alla fine della corsa. Grazie per la visione! Grazie per la visione!